lecco fin fest 2022 luci della città monsignor davide mirani oltre ad essere per vostro dire anche presidente della fondazione ente dello spettacolo luci della città come mai questo sottotitolo cosa significa usciamo da un periodo di buio il buio della pandemia siamo immersi in un periodo di buio il buio della guerra il buio anche di questo momento comprendiamo di essere fragili veniamo alla natura che si ribella forse si ribella alla violenza che abbiamo operato vediamo questa siccità che anche qui a l'ecco comincia ad essere problematica e allora abbiamo bisogno di luce abbiamo bisogno di qualcosa che illumini questo tempo e cosa di meglio della cultura può illuminare questo tempo cose di meglio del cinema che in grado di aprire tanti dibattiti di porre tante riflessioni il nostro festival è organizzato un po come un albero ci sono le radici programma serale cioè la proiezione cinematografica e poi a salire e queste radici generano un tronco e tantissimi rami e allora ecco la fioritura del programma più di 20 eventi con la presenza dei giovani e con i dibattiti sui temi dell'economia della comunicazione del ruolo delle donne le riflessioni e a partire da altri film che vedremo durante il giorno al cinema quidone aperti a tutta la città e tanti incontri con i protagonisti carlo verdone e christophe zanussi valeria solarino e tantissimi altri ospiti che impossibile elencare in una breve intervista fin da 2020 le donne sono un tassello forse il tassello più importante del festival è un filo rosso che continua anche in questa terza edizione sì il cinema da alcuni anni si interroga sulla questione femminile l'ha fatto ponendo una questione drammatica il tema delle violenze sulle donne anche in ambito cinematografico e noi preferiamo trattare questo tema in positivo cioè cosa manca al cinema ma cosa manca alla società alla cultura per rendere le donne veramente protagoniste per fare in modo che abbiano le stesse opportunità che i maschi hanno e il cinema purtroppo e vede troppo poche registe e troppe poco autrici sceneggiatrici femminili cosa vuol dire questo non è solo una questione di quote se il cinema è scritto solo dei maschi pensato dei maschi diretto dei maschi racconterà il mondo solo al maschile e quindi cerchiamo e con molta fatica visto l'eseguità delle protagonisti femminili di rendere protagoniste le registe donne le autrici donne e li abbiamo presenti qui a lecco in sole tradizioni abbiamo portato quasi tutte le registe italiane parlando del lato puramente cinematografico di questo festival ci sono alcuni film che sarebbe impossibile nel 2022 vedere da qualunque altra parte ci viene in mente ordet che presenta verdone un film del 55 insomma ci sono sono state fatte delle scelte non banali assolutamente appunto questo è un festival di cultura cinematografica per quanto sia destinato a tutti a non bisogna avere delle lauree per venire bisogna solo essere curiosi e partiamo da film appunto appena usciti come il paradiso del pavone che in sala in questi giorni che presentiamo con la presenza di laura bispori oppure giulia e di ciro de caro che ha vinto appunto tanti premi tra i nastri e david e delle scelte invece come dire a partire dall'idea che vogliamo trasmettere come appunto ragionamento che faremo con con christophe zanussi o con carlo verdone che non viene a presentare un suo film non viene a presentare un suo libro viene perché vuole condividere un ragionamento su questo pilastro e della cinematografia europea non solo il fondamento del cinema spirituale che è ordet è la parola di car theodore dreyer e insieme avrò l'onore appunto di ragionare su lui con lui sui temi che ordet pone il tema della vita il tema della morte cosa c'è dopo la vita ed è bello ecco che verdone abbia scelto proprio ecco il nostro festival per un ragionamento così intimo che però lo espone al pubblico grazie monsignor milani appuntamento al 7 di luglio per l'inaugurazione di lecco film fest 2022